Signore e signori, ragazze e ragazze, ragazzi scusate buongiorno, eccoci qui oggi torniamo a un argomento che abbiamo già trattato in passato ma che si presenta appunto sempre attuale, perché parliamo di bitcoin, quindi la quotazione del bitcoin in euro. Vediamo quindi di fare questa analisi tecnica per capire qual è l'andamento attuale fare le nostre considerazioni. Quindi direi di partire da inizio anno in cui la quotazione era abbastanza stabile, insomma in un range di valori compreso fra, per capirci, 35.000 e 50.000 circa, quindi di valori piuttosto alti storicamente, piuttosto alti del bitcoin, qui c'è stato un calo ma subito dopo una ripresa, siamo arrivati poi in maggio, quindi a metà maggio circa c'è stato questo crollo. Dopo il crollo la tendenza, se ricordate ne abbiamo parlato, è sostanzialmente con un trend quindi negativo, quindi in questa fase siamo dal 20 maggio fino poi, vedete, al 20 luglio, quindi nell'arco di due mesi, sostanzialmente, passati da 30.000 circa euro al bitcoin a 25.000, l'andamento è stato sostanzialmente negativo. Ma arrivati a questo punto, quindi a 25.000 circa il 20 di luglio, improvvisamente c'è stata una ripartenza della quotazione. Quindi sì, eravamo preoccupati, se vi ricordate quando abbiamo parlato nelle volte precedenti, proprio perché sembrava che la caduta fosse ormai irrimediabile, ma a un certo punto abbiamo assistito una ripartenza del bitcoin. E in particolare c'è stata una salita abbastanza repentina che ha portato a circa 33.000 il valore, un rimbalzo, si chiama rimbalzo tecnico, insomma, che l'ha riportato a 32.000 però sostanzialmente intorno a questi valori. Poi se vi ricordate la volta scorsa abbiamo parlato di questa repentina crescita che lo ha riportato circa 40.000 e direi che attualmente siamo appunto in questa ottica di valore, quindi siamo a ormai 40.000 euro al bitcoin. Cosa significa questo? Significa che se noi avessimo comprato un bitcoin il giorno 20, per capirci, 20 luglio e ad oggi siamo all'11 di agosto, quindi neanche un mese, avessimo investito ad esempio 27.000, 23.000, ecco quello che era il valore circa, bitcoin ci troveremo con un guadagno netto adesso di circa 15.000 euro, comunque questa cifra è abbastanza limitata. Quindi, come abbiamo detto altre volte, in un'ottica speculativa sicuramente il bitcoin si presenta come uno strumento sempre interessante proprio per queste continue variazioni. D'altronde avevamo premesso che la quotazione poteva risalire e così è successo. L'attesa, come dicono gli analisti, potrebbe essere addirittura di 100.000 euro per natale al bitcoin. Quindi volevo appunto aggiornarvi su questa situazione, insomma, sempre interessante, per ora simuliamo l'andamento, certo se abbiamo investito avremmo guadagnato un bel po' di soldi, però appunto in questa simulazione lo cercheremo così nel tempo di capire qual è l'andamento e poi vediamo se fare veramente un investimento. Per ora siamo degli osservatori e prudenzialmente andiamo solo ad osservare quella che è la situazione, che è l'andamento nel tempo della nostra valutazione. Bene, io vi ringrazio come al solito per la vostra cortese attenzione, vi invito a mettere un like se vi è piaciuto, dislike se non vi è piaciuto, ad attivare la campanella, quindi ad iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sui contenuti che vedete più di poco senza spesso, anche se qualche giorno per il pension familiare non ho pubblicato in questa settimana. Quindi ve l'ho detto, like, dislike, iscrivetevi e soprattutto commentate di sotto per dirmi quali sono gli argomenti che più vi interessano. Grazie mille ancora, ciao a tutti e buona giornata.